Musica ma poi ci sentono anche le cazzate che dicevi adesso l'hai visto come arrivano lì non ti piace piace? a me noi andiamo la linea, i bassisti, guardate il tiro, i pughi, quando ci sono i cavalli ti fermi il fotografo no 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 ma io sei toccato no sei toccato fai e io lo fai